ciao ciao a tutti ciao a tutte bentornati o ben arrivati se la prima volta che siete qua sul mio canale io sono monica benvenuti in questo video all dove vi parlerò del primo acquisto che ho effettuato su questo sito low cost che si chiama shop miss a prima di parlarvi dell'acquisto voglio subito farvi vedere con cosa ho realizzato il make up e vi lascerò qui una clip dove si vede più da vicino e l'ho realizzato con una palette che a me piace tantissimo perché super colorata e che mi ha regalato una ragazza che mi segue che si chiama lidia che io saluto alla quale mando un bacione e noi ci scriviamo anche a volte su whatsapp volte su instagram lei mi guarda guarda sempre i miei video quindi la ringrazio tanto per il supporto che mi dà e mi aveva regalato qualche mese fa questa stupenda palettina di nyx che si chiama ultimate edit è una palettina super super colorata tanto che io l'ho utilizzata quest'estate quando avevano un po' riaperto i locali mio figlio era riuscito a fare un concerto dal vivo perché lui ha un gruppo musicale tra l'altro io lo promuovo sempre quindi se volete andare a guardare i video musicali del suo gruppo che si chiama antartica cliccate sotto che c'è il link perché sono dei bravi ragazzi che si sono tanto impegnati soprattutto in questo periodo di lockdown per un gruppo emergente non è non è facile comunque dicevo loro avevano fatto un concerto all'aperto e avevano prodotto del merchandising con il logo dell'arcobaleno e io praticamente mi ero ispirata quella sera al loro logo in onore del concerto mi ero truccata proprio con questa palette perché con questa qui si riesce proprio a fare l'arcobaleno completo poi l'ho utilizzato un'altra volta ma forse non so se per qualche video qui o per qualche story di instagram con i colori questi due qui che danno sul viola rosa oggi invece ho voluto utilizzare giallo e arancione e nella rima inferiore questo verde e devo dire che sono molto molto belli questi colori scrivono bene si sfumano bene è proprio un piccolo gioiellino invece sul ciglia ho messo questo nuovo mascara che è lo scandalize on demand di rimmel london rimmel è un marchio che non compravo dai tempi della mia adolescenza ma sto leggendo e che in tante lo hanno un po riscoperto rivalutato perché probabilmente nel tempo si è anche migliorato e quindi ho deciso di provare qualcosina ho provato a ordinare la matita per sopracciglia e il mascara sono super super low cost anche questi adesso non ricordo quanto li ho pagati e devo dire che il mascara l'ho messo oggi e mi sta piacendo molto l'effetto lo scovolino è fatto così è abbastanza grande e distribuisce bene il prodotto sono ore che ho sul trucco non si è sgretolato né niente l'unica cosa è che non è waterproof io di solito li preferisco waterproof però insomma va bene lo stesso adesso bando alle ciance però e passiamo al sito di shopmisei allora è un sito low cost dove praticamente tutto costa un dollaro quindi tradotto in euro sono circa 89 centesimi se non sbaglio però ci mette tanto ad arrivare perché arriva da dallas in texas passa la dogana senza problemi io questo sito l'ho scoperto grazie a un video di una youtuber che seguo che è caterina del canale sontina f e vi lascio sotto il link al suo canale perché lei è simpaticissima è una persona veramente semplice posata carina simpatica poi ha una nipotina che ogni tanto appare nei video che è stra simpatica anche lei io le saluto se per caso caterina guarderà questo video e quindi dicevo ho visto un suo video all dove lei spiegava di aver acquistato più volte da questo sito e di non aver mai avuto problemi di dogana nonostante venga da dallas e quindi ho deciso di provarlo anch'io perché voi ormai se mi seguite lo sapete io tutto quello che è low cost lo testo lo prendo lo acquisto perché io adoro il low cost di qualità perché secondo me non è vero che lo cost è sinonimo di scarsa qualità dipende e le cose vanno testate provate io uso tantissimo make up low cost e mi trovo benissimo come uso anche prodotti skin care low cost ovviamente non è così sempre cioè nel senso non sempre una cosa che costa poco ha una buona resa ma anche è vero però il contrario a volte si paga tanto il marchio e in realtà magari il prodotto è pari o quasi a un prodotto che non ha un marchio famoso e che però è altrettanto buono quindi io quando trovo qualcosa di nuovo questi siti anche che vendono magari skin care coreana prodotti un po diversi dal solito io mi cifiondo e vado a sbirciare e guardando questo sito ho deciso di di fare un piccolo acquisto ho speso 21 dollari e 08 adesso non ricordo tradotti in euro esattamente quanti sono e vi faccio vedere come arrivano i prodotti allora arrivano in questo sacchettone però all'interno del sacchetto c'è un altro bel sacchetto rigido e robusto chiuso ermeticamente chiuso che viene un po gonfiato questo per preservare penso il contenuto da eventuali urti visto anche il viaggio lungo che deve fare e io vi dico che non ho ancora provato nulla perché mi è arrivato proprio un paio di giorni fa solo mia figlia ha provato una crema ho comperato le creme non in full size cioè non in barattolo ma in buste col tappino sopra che contengono quindi meno prodotto perché appunto le volevo prima testare prima poi di decidere magari di continuare ad utilizzarle quindi ordinarle in un nel barattolino insomma nella full size diciamo e mia figlia con quella crema lì che sta provando si sta trovando bene adesso vi faccio vedere ho svuotato tutti i prodotti qua accanto a me per non fare rumore col sacchetto e vi faccio vedere una volta le cose che ho preso allora per prima cosa vi mostro due creme contorno occhi che sono queste qui vi metto gli occhiali per rileggere allora una è illuminante con la vitamina c e contiene vitamina c collagene retinolo ceramide ceramidi vitamina a e vitamina e e sono si presenta così all'interno c'è questo supporto con poi il tubetto sono 15 ml e la formulazione non è in gel ma è in crema proprio vedete entrambi i contorno occhi sono così e non hanno alcun odore diciamo che questa qui in alla vitamina c ha un sentore ma molto molto neutro l'altra proprio in odore quindi non contiene profumo l'altra è si chiama lift and firm con collagene e peptidi e contiene collagene peptidi vitamina a vitamina c e vitamina e quindi anche questa insomma una bella una bella formulazione tutte e due questi contorni occhi a fianco hanno questi simboli ph bilanciato 5.5 free scusate liberi dei parabeni quindi paraben free non ci sono sls sls non sono comedogenici non sono testati sugli animali che questa è una cosa non di poca importanza per tutti i tipi di pelle anche l'altro è così nel supportino di plastica uguale identico quindi un pack molto basico niente di che e andrò a provarli e poi vi farò sapere come mi sarò trovata con questi due contorni occhi ne ho presi due perché alla mia età il contorno occhi va nutrito va idratato va mantenuto elastico e voglio testare e vedere come sono questi prodottini che costano così poco poi sono stata incuriosita da queste cosine qui che vedete che adesso vi dico cosa sono intanto una l'ho già aperta per farvela vedere meglio allora abbiamo questa piccola scatolina adesso l'ho tolta dalla confezione in plastica che si apre così vedete se riesco ad aprirla eccola qui al suo interno c'è una pellicola protettiva che va rimossa e poi sotto ci sono 35 foglietti foglietti e questa è comunque questa è la pellicola protettiva ma la consistenza dei foglietti è questa foglietti di sapone questi qui sono alla rosa e sanno un profumo incredibile la trovo molto utile perché serve per quando si è in giro tenere in borsetta la scatolina così e quando serve magari sia in un locale sia in un bar se da qualche parte ci si vuole lavare le mani si estrae un foglietto di sapone che andrà a sciogliersi completamente a lavare le mani ne ho prese quattro confezioni perché una testa per noi poi una la volevo regalare a mia mamma quella lì era alla rosa questa è alla mela questa al tè verde e questa qui alla pesca anche di questo vi farò sapere come funziona se funziona bene se lava bene le mani comunque la trovo un'idea molto molto pratica molto carina non l'avevo mai vista da nessuna parte poi vi mostro la crema che ho preso per mia figlia sono 20 ml ecco qua è in questa contenuta in questa busta è disegnata la scatolina ma in realtà è contenuta in questa busta e ha il suo tappino che si svita anche questa mi diceva mia figlia che è completamente inodore e questo qui è un squalano derivato da piante noi utilizziamo da tempo lo squalano di origine vegetale della di ordinary e ci troviamo benissimo ha un potere idratante fenomenale e fa anche da barriera protegge un po' la pelle diciamo e quindi ho voluto provare a prenderlo anche di questo marchio qui e vediamo per adesso lei dice che si trova bene che le piace molto come le fa sentire la pelle idratata garantisce un'idratazione di 24 ore e c'è scritto anche qui che fa parte questa della skin care coreana ingredienti puliti dermatologicamente testata e anche questa è cruelty free e ph 5,5 quindi un ph bilanciato poi ho preso una crema sempre stesso tipo di pack quindi questa busta 20 ml di crema col suo tappino e questa qui è retinolo retinolo 0,25 per cento più tamanu oil che io non sapevo cosa fosse e ho scoperto che è olio di semi di tamanu che praticamente è una pianta che cresce in asia in polinesia ed è un vettore incredibile di idratazione di protezione della pelle e anche nutritivo perché contiene vitamine credo contenga la vitamina e se non ricordo male e contiene oli fenoli quindi è un olio vettore insomma che porta idratazione e nutrimento alla pelle quindi ho voluto prenderla ovviamente anche questa non l'ho ancora provata non l'ho ancora aperta a dirvi la verità anche questa non ha nessuna profumazione quindi questo direi che è una cosa anche positiva per chi magari può avere delle allergie o dei fastidi dovuti ai profumi che vengono messi nei cosmetici anche questo come l'altro ha le stesse diciture pH 5,5 dermatologicamente testato cruelty free e ingredienti puliti poi magari guarderò bene da vicino l'inci per capire realmente che cosa contiene comunque proveremo anche questo poi ho preso questa bustina è un siero fitocollagene complex 10% che cosa vuol dire fitocollagene? non è un collagene di origine animale quindi è anche vegano questo prodotto qui è estratto dalle carote e questo qua si utilizza come un qualsiasi siero subito dopo aver deterso il viso dopo il tonico prima delle creme e ne bastano c'è scritto pochissime gocce loro scrivono sempre di premerli i prodotti nella faccia credo che sia un modo di applicare i sieri e alcuni prodotti tipico della skin care coreana e questo appunto ha una funzione idratante e levigante poi ho preso un lavaviso questo qua si chiama foam cleanser questo anche in busta sempre con il tappino e questo qui è al niacinamide 2% più ceramidi e tè verde praticamente il niacinamide ha una funzione schiarente va a chiudere i pori e va a uniformare la texture del viso mentre il tè verde contiene tanti antiossidanti come ovviamente sapete il tè è ricco di antiossidanti e quindi la combo secondo me è ottima anche questo qui riporta sempre la dicitura cruelty free serve a idratare serve a lavare è dermatologicamente testato e si usa mattino e sera dopo lo struccaggio appunto per lavare il viso e rimuovere così gli ultimi residui eventuali di make up ah voglio sentire se almeno questo ha un profumo oppure no anche questo completamente mi sembra aspettate che provo anche questo completamente senza nessun tipo di profumo aspettate che lo chiudo poi ho preso una cosa curiosa anzi ne ho prese tre uguali ed è questo aggeggio qui che adesso vado a tirare fuori è in questa confezione che comunque poi si richiude c'è scritto shampoo scalp massager praticamente che cos'è? si impugna così e quando ci si lava i capelli quando si sono insaponati bene i capelli e il cuoio capelluto si va ad effettuare un massaggio che va quindi oltre che ad aiutare lo shampoo a pulire bene la cute va anche a riattivare la circolazione secondo me le punte sono morbidissime non sono per niente dure e sono in silicone quindi non vedo l'ora di provarlo ne ho presi tre visto che noi siamo in tre ognuno avrà il suo e poi vi farò sapere anche di questo però mi ha incuriosito molto non avevo mai visto uno strumento simile quindi poi vi farò sapere poi ho preso questa maschera che fa sempre parte della skin care coreana che è una maschera nutriente al collagene anche questa e contiene anche estratto di cenomeles sinensis che non sapevo cosa fosse sono andata a cercare ed è un pesco giapponese che ha proprietà idratanti, nutrienti e leviganti e estratto di portulaca che va a combattere i radicali liberi questa qui è una maschera in tessuto si applica, si lascia su 15-20 minuti si rimuove e poi non va sciacquata ma il residuo va fatto lentamente assorbire nel viso poi ho preso una bubble mask al retinolo allora questa qui praticamente vi faccio vedere il disegno questa è una maschera che si applica sul viso dovrebbe essere scura, nera il tessuto dovrebbe essere nero poi a contatto con l'ossigeno comincia a fare una sorta di bolle, di schiuma e agisce così per 15-20 minuti poi va tolta e va sciacquata completamente questa ci sono delle avvertenze perché siccome contiene retinolo non va usata nella pelle scoriata se ci sono delle piccole ferite insomma bisogna avere un attimo di precauzione e soprattutto se si sente pizzicare bisogna toglierla io ho già usato prodotti retinolo quindi non dovrei avere problemi però sono proprio curiosa di provarla perché non ho mai provato questo tipo di maschera che appunto fa la schiuma a contatto con l'ossigeno infatti qui proprio viene spiegato questo meccanismo poi ho comprato un balsamo labbra ma può essere utilizzato anche nella pelle un po' secca tipo nei gomiti, nelle ginocchia che a volte si seccano oppure attorno alla bocca d'inverno quando magari con il freddo ci irritiamo la pelle oppure sulle labbra non l'ho ancora aperto quindi adesso lo apro con voi e andiamo ad annusarlo perché profuma di anguria watermelon aspettate un attimo perché è un po' duro da aprire eccolo qui non lo proverò perché ho il rossetto non uso e basta però vediamo si sente tantissimo il profumo è fatto così, vedete, all'applicatore adesso io lo spremo eccolo è trasparente molto molto burroso buonissimo sa proprio di anguria viene voglia di mangiarlo questo qui vediamo se contiene qualcosa di emolliente perché non ho letto dietro non è scritto niente di particolare sinceramente c'è scritto solo che idrata e aiuta la pelle screpolata e le labbra quindi questo qui già mi piace dal profumo che ha è molto molto goloso e poi dulcis in fundo ho voluto comprare due tinte labbra wonder matte lipstick allora ho comprato due colorazioni che adesso non riesco a leggere sì questa si chiama siren sirena e questa qui si chiama furious mi sembra aspettate che tolgo l'etichetta perché non si vede niente allora adesso vado a sbocciarli perché non l'ho ancora fatto non li ho proprio ancora aperti infatti ho tolto il cell off anche li rivestiva poco prima di girare il video allora questo qua questo è il pennellino molto bello molto molto bello guardate non so come sarà la tenuta e la resa lo scoprirò nei prossimi giorni poi vi farò sempre come sempre le review e questo che è più un fucsia mentre l'altro è più sul color rosso mattone molto molto intenso anche questo molto bello spero che si vedano bene casomai vi metto una clip ingrandita qui sul video e questo è tutto fine degli acquisti mi pare sì vi ho mostrato tutto quanto bene io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia ispirato come ha ispirato me che sono subito andata a vedere il sito appena avevo visto il video di Caterina e fatemi sapere se per caso voi lo conoscevate già questo sito se avete anche già ordinato qualcosa come vi siete trovate e io intanto vi ringrazio per avermi seguita mi raccomando se il video vi è piaciuto vi chiedo un like di supporto se vi volete iscrivere sotto troverete un tasto con scritto iscriviti e se attivate anche la campanella che c'è lì a fianco riceverete una notifica ogni volta che io caricherò un nuovo video per adesso io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta ciao e grazie ciao 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 ciao